Musica Hub Corciano è una struttura di co-working come base di partenza. Nasce da una necessità di condividere idee. Ogni persona che sta all'interno della struttura co-working oggi ha un'attività o ha libera professione, quindi comunque esperienze consulenziali. Quindi diciamo che abbiamo semplicemente dato un nome a un qualcosa che noi facciamo da anni, cioè quella di condividere gli spazi fisici e condividere prima di tutto le spese e le gestioni standard. Quindi questo in realtà è molto semplice come concetto e dal mio punto di vista anche molto diffuso. Hub Corciano poi è nata in realtà perché abbiamo detto abbiamo una forma effettiva a ciò che stiamo facendo e abbiamo portato il concetto della condivisione degli spazi ad una condivisione di idee, quindi molto simile a quello di cui stai parlando tu. Noi l'abbiamo basato principalmente sulle attività delle varie società che stanno all'interno della struttura. Attualmente sono otto le aziende che sono partecipate all'interno di Hub Corciano. Hub Corciano proprio perché è una struttura di cooperazione ha voluto formare una cooperativa. La cooperativa che è nata dietro si chiama Hub Servizi ed è una cooperativa innovativa di definizione. Tant'è che infatti ci abbiamo messo quattro mesi per iscrizione in camera di commercio perché non sapevano di preciso dove classificarci. È una forma ancora nuova in Italia, la struttura della start-up innovativa esiste ed è anche molto riconosciuta. La cooperativa innovativa è ancora un concetto che si deve un po' elaborare. Quindi da qui siamo passati a un concetto, quello del co-working, a un concetto più esteso che è quello dell'incubatore. Allora abbiamo detto facciamo partire questo progetto su un qualcosa che già esiste, cioè gli spazi. Gli spazi ne abbiamo 600 metri quadri di struttura, 24 postazioni, 5 uffici, una sola riunione, una sola formazione. Quindi a livello immobiliare stiamo messi bene. Dall'altra parte questi spazi non sono da riempire semplicemente perché dobbiamo condividere l'affitto ma perché lì dentro vogliamo che entrino persone che siano nella volontà di fare uno sharing delle proprie idee. Quindi assolutamente vietato l'ingresso a chi ha paura che la propria idea diventi di qualcun altro nel momento in cui se ne parla. Lì più se ne parla è meglio. Sono successe, succederanno sempre che comunque c'è una gestione non intelligente della condivisione perché ci sarà e c'è stato e ci sarà sempre chi comunque vuole solo cogliere la proposta, l'idea per potersela far propria. Dall'altra parte lì dentro sono venute fuori molte idee che sono anche sfociate in attività. Tornando al discorso abcorciano partiamo da co-working, quindi si sta seduti insieme all'interno della struttura si condividono gli spazi proprio perché devono nascere le idee. Nata l'idea dobbiamo far sì che l'idea prenda una forma. Quindi abbiamo pensato di aprire all'interno una struttura di formazione, quindi una delle aree curerà la formazione. Anche la formazione non è stata pensata come una lennessima alternativa sul territorio. Il nostro background non è quello della formazione, quindi abbiamo semplicemente cercato di aggregare chi la formazione la fa bene sul territorio e l'abbiamo cercato di portarli dentro. Con la formazione vogliamo accrescere il know-how. Questo know-how poi deve sfociare in qualcosa di più concreto, quindi l'idea deve passare ad essere un progetto e quindi viene incubata. L'essere incubati significa non che gli altri risolvano i problemi, è semplicemente dare un supporto allo sviluppo, ma prima di tutto un supporto che permetta di capire quali sono i corretti metodi, i metodi etici nello sviluppo di una impresa. Quindi insegnare non tanto a come trovare semplicemente la parte economica per sviluppare il progetto, ma come essere imprenditori, cioè che significa essere imprenditori? È difficile, è un mondo complesso, ci sono tante sfaccettature, vanno capite tutte. È impensabile che si stiano ancora radicati su una logica di faccio un'impresa, faccio il business plan, lo porto in banca, me lo faccio finanziare e poi dopo parto. Non funziona più così, non è questa l'impresa sana che comunque vogliamo creare. L'impresa sana che vogliamo creare è quell'impresa che vede l'imprenditore al centro, che crede nel progetto, che investe nel progetto tutti i giorni, parti economiche ma soprattutto professionalità, know-how, con l'obiettivo di accrescere sempre di più il suo know-how. Dopo i soldi arrivano, ci sono. Prima però dobbiamo creare questo presupposto, quindi co-working, formazione, incubatore. L'ultima area è quella dei servizi, quindi diamo spazio alle persone che non hanno un'azienda, una società o comunque ancora non sono pronti per la partita IVA, tutto quello che è l'ufficializzazione del progetto, si può passare attraverso la cooperativa. Quindi si diventa parte della cooperativa e si può utilizzare la cooperativa come strumento di vendita e di promozione. Qui diciamo che il progetto è molto complesso, non può essere racchiuso in un'unica identità come quella del co-working. Dal nostro punto di vista la reale identità è l'incubatore, ma ecco, non fine a se stesso come vi lascio lo spazio, state qui dentro, pagate un affitto magari concordato e poi in bocca al lupo che la strada è sicuramente interessante. Dall'altra parte invece non è così, cioè non vuole essere così, non può essere così. Quella è una struttura all'interno della quale se qualcuno già ha fatto un percorso, quel percorso è bene che lo condivida. Dall'altra parte invece non è così, cioè non vuole essere così, non vuole essere così, Grazie.